Secondo lei lo sport può dare un aiuto a questo problema che abbiamo del problema dell'identità, di un problema culturale, dell'Europa unita, divisa, in questi momenti di attualità? Sicuramente lo sport è uno strumento privilegiato in quanto linguaggio universale e quindi ha una capacità di comunicazione straordinaria che pochissime altre cose, quasi neanche i fondamentalismi religiosi riescono ad avere. Aggiungo, e di questo parlavamo fino a poco fa, che lo sport di squadra a maggior ragione costruisce proprio quell'identità lì, è un luogo dove persone diverse, di colori diversi, di provenienze geografiche, di livello culturale diverso si mettono a disposizione dell'altro per raggiungere un risultato comune, quindi è davvero lo sport in sé uno strumento di linguaggio universale, ma lo sport di squadra è uno strumento di costruzione di identità fortissimo. Forse però bisognerebbe un po' oltrepassare questi stereotipi per cui lo sport è solo il calcio piuttosto che no? Lo sport è anche il calcio, certamente, io sono appassionato, è uno sport di cui sono innamorato, però esistono veramente tante forme e guarda vado anche oltre nel senso che il messaggio veramente importante è quello di parlare di cultura del movimento che ha anche un ritorno proprio in termini di investimento sulla salute e quindi sul benessere del paese, benessere anche economico perché una buona e condivisa cultura del movimento fa sì che il servizio centrale nazionale risparmi, per esempio, quindi c'è un valore assoluto legato allo sport, è quello più riconoscibile perché è legato a squadra, campionati e risultati, ma c'è un tema di cultura sportiva che passa attraverso la cultura del movimento, ovvero lo sport di farlo, di praticarlo. Forse l'Europa è sempre stata un po' più avanti e l'Italia un po' indietro. Una certa parte d'Europa un po' di più, io ho avuto la fortuna di lavorare per tanti anni in Finlandia, in Scandinavia, quel tema non esiste, lo sport prima che essere tifato, raccontato e praticato e quello è un simbolo di grande civiltà. Noi siamo campioni nel raccontare, nel tifare, nel commentare da salotto lo sport, sicuramente abbiamo un grande margine per poter migliorare da questo punto di vista in quell'aspetto. Grazie.